Nel servizio c'è un passaggio che nessuno forse l'ha considerato, il fatto che il signore in questione abbia ricevuto un'altra nomina, visto e considerato che abbia ricevuto un'altra nomina, la pensione gli era stata tolta giustamente, è vero o no? E lei ha fatto ricorso? Allora lei prende la pensione per il lavoro che ha fatto, ed è giusto, lei vuole prendere il compenso per la nomina che ha appena ricevuto e in più la pensione per quello che ha fatto in passato da consigliere regionale. Mi scusi, ma lei si rende conto in che stato stiamo vivendo? Lei si rende conto che la gente non arriva a fine mese? Lei si rende conto che la gente non arriva a fine mese? Tre stipendi? Tre stipendi? Due pensioni e uno stipendio? Ma stiamo scherzando?